Se state riscontrando errori riguardo alla connessione e al multiplayer, tipo quando vi disconnettete così dalla partita su NBA2K25, è possibile risolvere questo problema in tre metodi. Quindi in questo caso andiamo un attimo sul nostro CMD, quindi vai a scrivere CMD Prompt dei Comandi, esegui come amministratore il prompt dei comandi. Se non si avvia qua sopra, tasto destro su Prompt dei Comandi, e lo avvii. Una volta fatto andiamo così a scrivere ipconfig.spazio.slash.relays. Una volta fatto, se schiaccio così questo tasto, mi disconnetterò dalla rete. Una volta fatto, vado a scrivere ipconfig.spazio.slash.renew. Mi riconnetto di nuovo alla rete, vado a scrivere ipconfig.spazio.slash.slush.dns. Ed eccola qua, abbiamo svuotato le cache della nostra dns, della nostra rete. Una volta fatto, puoi premere direttamente. Poi passiamo direttamente al secondo metodo, andiamo direttamente alle nostre reti, tasto destro sopra, impostazioni di rete internet. Impostazioni di rete avanzate, ed ecco qua le nostre reti. Ovviamente io uso il cavo Ethernet per giocare e non avere problemi di matchmaking o problemi alla disconnessione durante la partita. Quindi vado direttamente sul mio cavo Ethernet, altre opzioni, scheda. Faccio modifica, vado su etc.pv4. Utilizzi i seguenti indirizzi server DNS, potresti aggiungere il server DNS del Cloudflare. Quindi schiacci 1, 1, 1, 1. Come secondo server DNS metti 1, 0, 0, 1. Prova a giocare con questo server DNS, utilizzi i seguenti indirizzi server DNS sulla tua rete e fai ok. Io ovviamente, visto che non ho problemi, direte, faccio odd, indirizzo server DNS automaticamente, che è quello più consigliato. E faccio ok. Una volta fatto, vai a scrivere qua sopra, ripristino. Rete. Ovviamente, o lo trovi qua sopra, oppure puoi ritornare su impostazione di rete internet, impostazione di rete avanzate, scendi fino a giù, fino a trovare, ripristino della rete. Puoi ripristinare così la tua connessione di rete, quindi poi devi aggiungere di nuovo la password alla tua connessione e devi riavviare il computer. Se non lo vuoi fare, puoi fare direttamente. Disabilita la tua rete e riabilita. Andiamo su gestione dispositivi. Tasto destro su start, trovi gestione dispositivi, vai sulla tua rete, aggiorna i drive, cerchi i drive nel computer, scegli da un elenco di drive disponibile. Metti il control ethernet, questo qua è la mia, metti il primo modello, vai avanti e installi così la tua rete. Il driver per la tua rete. Per altri problemi ancora, puoi commentare sotto al video e noi ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao. Ciao. Ciao.